salve e bentornati su gamehug con questa nuova puntata di oh mio dio ho visto una texture apparire no non è questa puntata la puntata è di executioner the executioner su the evil within oh mio dio le musiche sono fighe sono fighe e a si si era aperta la porta sopra noi possiamo andare lì e farci salire il livello un po di esperienza e lo facciamo vediamo se è cambiato qualcosa sarà più difficile non penso non so ma non esplodi brutto schifo vai vai olè mamma mia no niente questi appondi che facciamo col martello sono cioè bisogna essere molto precisi qua e non servono a un cavolo quindi è inutile oh mio dio è inutile farli vai 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 esecuzione a terra ragazzi esecuzione a terra ok dunque direi di arretrare un pochino se te la pigli un gava oh mio dio oh mio dio buoni 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 sono solo loro due ok buoni ok buoni e vai perfetto dunque adesso scende quello da sopra noi aspettiamo viacce 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 guarda te ti stordisco no 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 non era quello che volevo fare volevo prendere questo oh oh e ti lancio la oh oh bene bene va benissimo così adesso dovrebbe spuntare l'ultimo se non sbaglio si si infatti eccolo qua e te la pigli un gava bene va bene adesso ci andiamo a potenziare ragazzi ok 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 vediamo che cosa possiamo aumentarci qualcosa che faccia male vediamo un po' e il martello possiamo potenziarlo bene al livello 3 e adesso andiamo avanti oh sta buono perfetto mi ha dato delle monete wow 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 monetona spacchiamo un po' di roba questo non si rompe non si rompe va bene qua è vita che ce l'abbiamo al massimo e io direi che andiamo avanti buono no muori buono ci scommettevo ci scommettevo no 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 10 10 qual è c'è qualcun altro si va bene va bene va bene così senza parole aggiungerei ma non mi piace tanto pensare a certe canzoni vabbè che adesso non mi metto a parlare di musica che siamo un canale di gameplay ok dunque va bene non dovrei essermi perso nulla wow 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 posso usare da qualche parte qui quella cosa ok un bagno di sangue sta bene tizio con gli occhiali non sembrava uno a cui poter dare confidenza riesco ancora a sentire la sua risata non credo che sapesse più chi era credo che il modo per non impazzire sia di pensare a tutte le cose che farò quando uscirò da qui eh si quando uscirei da qui va bene va bene e qui signorina aspetti dove va oh ecco va bene no aspettate aspettate così mi sa che vado avanti vabbè vediamo cb204 e qua mi si dovrebbe aprire la porta detective fase 5 in fase 4 il soggetto detective ha mostrato una costante perdita di consapevolezza e involontari e tendenze suicide mi sa che è joseph abbiamo conteggiato almeno 4 tentativi il soggetto ha anche mostrato ripetute deformazioni fisiche e intermittenti il processo di guarizione iniziale del soggetto è stato invertito e al momento ha perso consapevolezza un flusso di coscienza proveniente dagli altri soggetti è una componente della dominazione dello stem i ricordi del soggetto sembrano essere disorganizzati e le capacità di parlare ridotte al minimo e infatti è joseph ok qua potremmo potenziarci volendo ma siamo potenziati vediamo un po' di spaccare qualche cosa e se qua posso andare avanti scusate ci vado prima che ho fatto ok come sono arrivato qui tento di ricordarlo ma non ci riesco forse ero in terapia ma credo di aver litigato con papà per questo diceva che quella ruben poteva aiutarmi ma non si fidava di lui però dovevo provare oggi non riesco a parlare ah posso posso farlo ok eh si fatemi abbassare no non posso schiacciarlo mentre sono abbassato vai avanti bravo bravo vai avanti vai avanti muori dove sei dove sei finito voglio il dopo sorcio beh ok e basta fine 10 monete ok eh ragazzi che ne dite vi sta piacendo questo dlc dlc secondo me è figo molto figo mi aspettavo una cosa diversa tipo fai il mini gioco fine invece è proprio una specie di story mod con vari mini gioco con varie missioni per uccidere appunto questi mostri alla fine è la cosa figa oh mio dio no 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 tu vieni qua che cavolo vieni qua vieni qua e state fermo oh ce l'ho fatta ho aperto la porta con la martellata ah no 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 l'avevo aperta prima va bene va bene wow 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 si dai dai oh sta buono fermi mamma mia va bene posso fare nient'altro qua posso aprire questa porta va bene oh no non ci avevo pensato non ci avevo pensato vabbè prossimo caricamento ma mi sa che non me lo farà fare boh eh potevo farne uscire uno e farlo esplodere va bene andiamo a fightare il boss combatterlo contro Joseph vai oh oh questo pezzo ma che c***o bene sa che è meglio se mi riparo qua dietro già no ma non mi possono fare pure i mostri oh 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 fermo fermo ferma tutto oh che botta mamma mia buono buono oh adesso però stiamo attenti a lui che spara ok oh mio dio sta qui fermo con le molotov oh mio dio ma è impossibile come come caspita fa uno buono 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 fammi scappare fammi scappare mi serve la vita mi serve la vita mi serve buono no 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 fermo fermo no no guarda guardate cioè questo è se qualcuno mi rilasciasse un kit medico non sarebbe male e che cavolo decoste molotov basta basta che la vai sta sembrano ah ho ragazzi ho sa tu ai ai tu Basta Buono Oh no Oh Che ti fai ste cariche del cavolo Tiè Che qua Buono Allora Prendiamo sta sedia No Sta buono Joseph Non romperti il cavolo Che mai rilasciato Buono Ma rilasciato il kit medico Ok E qua ce n'ho un altro Buono Perfetto No Bene Eh si Joseph Se la spara tutta Che te spari Fermate Buono Smettila Eccola Ovvio Buono Fermo Oh Basta Me ne scappo Fammi prendere il kit medico Buono 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 Smettila Joseph Oh Sta Buono Fermo Fermo Buono 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 Vai Vai Ce l'ha Fatta Ce l'ho fatta Cioè ce l'ha Le me Va bene Ok Ok Rompeva il cavolo lui Rompeva il cavolo Ma Non aveva troppa vita E va bene Quindi Che cosa succede Possiamo acquistare le molotov E possiamo correre ancora di più Dobbiamo seguire nostra figlia E lo faremo nella prossima puntata su The Executioner Lunedì su questo canale Ciao brutta gente del web